La bella Dorothy mi induce in tentazione, sì sì, proprio così, questo video è intitolato proprio così, la bella Dorothy mi induce in tentazione, perché io Serafino Massoni non sto solamente su YouTube, sto anche su Dailymotion, sto su Facebook, sto su Instagram, ma soprattutto sto su Twitter, e Twitter è un preciatissimo social tramite il quale, tramite il quale, tramite Twitter, e io entro in contatto con i giornali e le televisioni e le case editrici di tutto il mondo, e se non che sul mio canale Twitter è arrivata, è arrivata, mi è venuta a trovare la bella Dorothy, la bella Dorothy, è un canale in lingua inglese, la quale mi induce in tentazione, perché lei ha delle belle foto qua, delle belle foto, per esempio in questa foto, la bella Dorothy fa una potentissima pompa, sì sì, non dico la parola intera, una potentissima pompa che in lingua corretta, in lingua scientifica, sarebbe una potentissima felazio, sì sì, anche qua fa un'altra felazio, e ci sono delle bellissime foto Dorothy, tu mi induce in tentazione, e qua, 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 la bella Dorothy fa un'operazione che mi hanno detto si dice, uno smorza candela, uno smorza candela, qua invece sta in macchina e si masturba, in macchina si masturba, Dorothy tu mi induce in tentazione, beh insomma, morale della favola, la situazione continua, la situazione continua, morale della favola, io, io, il canale della bella Dorothy, che mi induce in tentazione, ve lo metto come link nel risultato di questo video, mi raccomando, chi ha meno di 18 anni non vada ad aprire il link, capito, chi ha meno di 18 anni, mi raccomando, mi raccomando, e dopo che avete ascoltato questo mio video, tutti in libreria, a comprare questi romanzi, questi romanzi, vedete, sono dei romanzi storici, ok cari amici, tanti cari saluti anche alla bella Dorothy, che mi induce in tentazione.